Questa conferenza stampa è data perché abbiamo riunito quattro progetti di sport e salute che hanno dato alla Federazione Italiana Pentatron Moderno 120.000 euro che ha diviso in tutta Italia tramite un bando pubblico per chi volesse concorrere. Noi abbiamo come Pesaro concorso in quattro associazioni. Lo sport di futura nasce da un interesse verso il sociale e soprattutto nel periodo in cui stiamo vivendo ad oggi nel educare i nostri ragazzi a un rispetto verso il nostro ambiente e verso la nostra cultura perché fondamentalmente lo sport è cultura anche a livello di sostenibilità ambientale. Il progetto si basa sull'inclusione sociale e il disagio sociale. Chiaramente questo progetto ha una fascia di età che va dai 6 ai 16 anni e che come parametro ha l'ISE sotto i 15.000 euro e la disabilità che noi dovremmo valutare in base al nostro organico di tecnici e di struttura sociale. Si presenteranno le domande tramite questo cartellino che ha un QR code e un numero di cellulare. Basta chiamare o iscriversi e noi accoglieremo le domande. Abbiamo una possibilità di avere fino a 30 ragazzini o bambini che ovviamente non praticano altri sport perché questi corsi sono a fine sociale e sono gratuiti. Siamo riusciti a portare avanti queste quattro tematiche. In generale la mia nella fattispecie è quella dove andiamo a cercare di stimolare quelli che sono i bambini dai 6 ai 18 anni ha attraverso l'attività uno stile di vita buono a livello psicofisico. Entrerà anche all'interno delle scuole e attraverso poi le scuole cercheremo di far entrare anche nelle attività pomeridiane per poi nella conclusione del progetto intorno al dicembre sperando poi nella continuità di questi ragazzi che continuino a praticare lo sport. Il seminario di questa mattina al quale ci avete invitato a chi è rivolto? Rivolto ovviamente alle famiglie della comunità di Pesaro ma ovviamente i nostri progetti cercano di entrare anche all'interno di società, associazioni o comunque enti che portano avanti discorsi sociali e quindi ad esempio quello della Filosport va a lavorare appunto con Terziaro Donne ma anche quello di King & Queen con altre associazioni del territorio.